Come sta Giovanni Ciacci adesso dopo il grave malore Ecco la verità Come sta Cancelletto Giovanni Ciacci dopo il malore di ieri sera a Ballando con le stelle 2018. E questa la domanda che si stanno ponendo i tantissimi fan e spettatori della trasmissione di Rai 1 condotta da Millie Carlucci dopo aver visto che ieri sera sul finire della diretta La Padrona. Di casa ha annunciato che la Giovanni Ciacci era stato colto da un malore dietro le quinte. Molto probabilmente in seguito alle critiche e alle polemiche che ci sono state sulla sua esibizione. Paura a Ballando con le stelle per Giovanni Ciacci. Per chi non avesse seguito la puntata in tv, infatti, vi diciamo che Giovanni è stato colto da un malore dopo la performance del tango scandaloso con Raimondo Todaro. Che è stato promosso da Ivan Zazzaroni ma bocciato sonoramente da Guillermo Mariotto, che in diretta tv ha avuto un piccolo scontro verbale con Giovanni Ciacci. Chi ha seguito Cancelletto ballando con le stelle in tv ha avuto modo di vedere che Giovanni Ciacci ci è rimasto male di fronte allo zero spaccato da Mariotto per questa esibizione che invece ha conquistato. Il giudizio positivo di tutti gli altri giurati dello show, tra cui quello della temutissima Caroline Smith. Anche il pubblico da casa ha premiato ancora una volta la coppia Ciacci Todaro che ha conquistato il tesoretto social e un botto di voti al televoto tale da assicurare alla coppia il passaggio alla prossima puntata di sabato 14 aprile. La verità su Giovanni dopo il malore di ieri sera in tv. Tuttavia dopo la performance del tango scandaloso di ieri a Ballando con le stelle, Giovanni Ciacci si è sentito male dietro le quinte della trasmissione di Rai 1. La conduttrice Millie Carlucci ha parlato di uno sbalzo di pressione che tuttavia ha fatto preoccupare non poco. La produzione dello show di Rai 1 e anche il suo compagno d'avventura Raimondo Todaro. Sul finire della puntata di ieri, infatti, abbiamo visto che Gio Gio non si è ripresentato in studio per scoprire il verdetto finale del televoto. Tuttavia Raimondo Todaro ha rassicurato tutti, tra cui i familiari del concorrente che stavano seguendo la puntata da casa, dicendo loro che Giovanni stava già meglio. Questa mattina è arrivata l'ulteriore conferma anche da parte dello stesso Giovanni Ciacci che ha pubblicato un messaggio su Instagram. In cui ribadisce di essersi ripreso e che è già pronto per rimettersi al lavoro in vista della prossima sfida dove lo vedremo esibirsi in una nuova performance scandalosa. In cui ribadisce di essersi riposo e che è riuscita di essersi riposo e che è riuscita di essersi riposo.